a tutti, salita un po' in anticipo però il vice sindaco non sapeva della sorpresa, noi sapevamo. Grazie a questo gruppo, grazie ad Atenna Cultura, grazie a Talentincanto abbiamo avuto modo di ascoltare voci meravigliose, talenti a cui auguriamo come amministrazione comunale, personalmente il successo che meritano perché veramente sono dei ragazzi con delle doti eccezionali e che dire, io l'ho detto già a Loredana, quest'anno si è sfiorata alla perfezione.